Paolo Rossi, pablito, l'eroe del Mondial del 1982, è morto all'età di 64 anni per un male incurabile. Il campione è morto all'ospedale di Siena, dove si trovava ricoverato da qualche tempo per l'aggravarsi della malattia. L'annuncio è stato dato dalla moglie, Federica Cappelletti, con un post su Instagram. Il calcio italiano è in lutto e le bandiere sono a mezz'asta e la scelta della FIGC, che ha deciso di abbassare i vessilli nella sua sede romana in Via Allegri e soprattutto a Coverciano, la casa della Nazionale, a Firenze. Paolo Rossi è morto all'ospedale Lescott di Siena, dove si trovava ricoverato da qualche tempo per l'aggravarsi della malattia. Siena non è distante dalla proprietà, nei pressi di Bucine, in provincia di Arezzo, dove Paolo Rossi viveva con la famiglia. Circa tre mesi fa, secondo quanto si apprende, l'ex calciatore campione del mondo del 1982, si era sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale La Gruccia di Montevarchi. Tutta la fiorentina piange l'eroe del Mondiale 82, Paolo Rossi, toscano nato a Prato e indimenticabile protagonista della Nazionale di Bearzot della Coppa del Mondo vinta in Spagna. Così il club Viola omaggia il grande campione scomparso a 60.